Bene, rivediamo nuovamente il problema 8 della gara distrettuale 2024. Sono dati tre numeri reali positivi ABC con AC uguale a 9. Si sa che per tutti i numeri reali XY con XY diverso da zero vale AX al quadrato più BXY più CY al quadrato maggiore uguale di zero. Qual è il massimo valore possibile per B? 1, 3, 6, 9, non esiste B. Allora, affronteremo questo problema da un punto di vista non elementare utilizzando il cosiddetto metodo del gradiente che è un metodo di livello superiore ma spesso è più elementare di un metodo elementare che magari richiede la conoscenza di disuguaglianze che uno potrebbe non conoscere. Allora, facciamo una serie di remarks prima di applicare questo metodo del gradiente. Allora, il primo remarks è questo. Supponiamo di considerare una funzione, diciamo, di classe C0 su un compatto K. Allora, attenzione, i compatti per esempio di R2, lo facciamo in R2, si indicano in questo modo questa inclusione inclusione e un compatto è semplicemente un chiuso e limitato di R2. Quindi per esempio una circonferenza e un compatto, un cerchio chiuso con la sua frontiera e un compatto, un cerchio aperto senza la sua frontiera e un aperto ma non è un compatto. per il teorema di Weierstratt esiste sempre il minimo assoluto e il massimo assoluto di F. Va bene? E, attenzione, questo è un teorema di esistenza, non è naturalmente un teorema di unicità e non ci dice neppure come possiamo trovare questo minimo assoluto e questo massimo assoluto. Però ci dice che, attenzione, se stiamo lavorando con una funzione continua su un compatto, bene, siamo tranquilli che il minimo e il massimo assoluto esistono sempre. Ok, andiamo a vedere adesso il secondo remat. Ora, supponiamo a questo punto di prendere una funzione F che sia per esempio di classe C1 su un aperto ω di R2. C1 che cosa vuol dire? Vuol dire che la funzione insieme alla derivata parziale di x e la derivata parziale fatta rispetto all'y sono funzioni continue di ω, quindi di classe C0 su ω. Allora, supponiamo che il punto x0, y0 appartenente ad ω sia minimo o massimo di F. possiamo dire sia minimo locale o massimo locale di F. Allora, attenzione, la derivata parziale fatta rispetto ad x di F nel punto x0, y0 deve essere uguale a 0, la derivata parziale fatta rispetto a y di F nel punto x0, y0 deve essere uguale a 0 e questo equivale equivale a dire che il gradiente di F che è il vettore che ha come componenti la derivata parziale fatta rispetto a x di F, la derivata parziale fatta rispetto a y di F nel punto x0, y0 deve essere uguale a 0. va bene, quindi sono questi due unici remarks che volevo dire, anzi, aggiungiamo un terzo remarks. Allora, nella teoria elementare, nella risoluzione di problemi elementari, spesso la funzione F di x di y risulta essere uguale ad una funzione razionale fratta, quindi se vogliamo è il quoziente di due funzioni polinomiali, chiedo scusa, P di x, y e Q di x, y. Ora, attenzione che si può vedere che questa funzione F ha le derivate di tutti gli ordini nel suo dominio, quindi noi possiamo tranquillamente fare le derivate parziali. Allora, il metodo del gradiente consiste in che cosa consiste? Consiste in questo, uno scrive un sistema con le derivate parziali, mettendole uguale a 0, quindi non dovrebbe essere difficile fare queste derivate parziali perché la derivata parziale di una funzione razionale fratta è ancora una funzione razionale fratta e le funzioni razionali fratte si studiano nel piegno, sostanzialmente. Allora, da qui naturalmente che cosa succede? Succede che si ottengono diversi punti, x1, y1, x2, y2 e così via, sono punti, diciamo, per così dire stazionari e in questi punti possiamo sicuramente trovare se ci sono punti di minimo locale, punti di massimo locale o punti di altra natura. Va bene? Naturalmente uno si chiede, va bene, ma quando abbiamo trovato questi punti come facciamo a decidere se è un minimo o un massimo? Bisognerebbe andare a fare uno studio della cosiddetta matrice siana che coinvolge le derivate parziali seconde, andare a vedere gli autovalori, eccetera, eccetera, ma spesso nei problemi elementari che affrontiamo non c'è bisogno di fare un'analisi di questo tipo, cioè nel senso che una volta trovati questi punti riusciamo in qualche modo a capire se sono dei massimi o dei minimi. Va bene? questo naturalmente in linea di principio. Ok, detto questo, ritorniamo al nostro problema. Allora, consideriamo a questo punto la funzione f di xy uguale ad a fratto x al quadrato più b fratto xy più, dovrei scrivere c, ma sappiamo che a per c è uguale a 9, lo scriviamo 9 a y al quadrato. Bene, andiamo a determinare i punti stazionari applicando il metodo del gradiente. Allora, 2a x alla terza meno b x alla seconda y e poi la derivata parziale di f fatta rispetto a y è uguale a meno b x, y alla seconda meno 18 a y alla terza e imponiamo che queste derivate parziali siano uguali a zero. Va bene? Allora, imponendo uguale a zero, noi scopriamo attraverso semplici calcoli algebrici che b deve essere uguale a 6. Guarda caso uno dei valori che abbiamo nelle possibili risposte. Cosa vuol dire questo valore b uguale a 6? Bene, andiamo a sostituire al posto di b il valore 6 e andiamo a vedere se la funzione risulta essere maggiore o uguale a zero qualunque sia x e y purché nessuno dei due sia nullo. quindi andiamo a considerare f di x y uguale ad a x al quadrato più b il posto di b devo mettere 6 come abbiamo detto più 9 a y al quadrato. Benissimo, facciamo il minimo comune multiplo eccetera e succede che otteniamo a x alla seconda y alla seconda y più 3x al quadrato. Benissimo, con b uguale a 6 la funzione è maggiore o uguale di zero per ogni x per y diverso da zero. Va bene? Allora da qui noi deduciamo che b deve essere maggiore o uguale di 6 allora a questo punto supponiamo di prendere un b più grande di 6 quindi 6 più una quantità y maggiore di zero che cosa succede? Allora abbiamo qui andiamo a mettere qui un più y va bene? E se non ho sbagliato a fare i conti noi qui abbiamo più y a x y va bene? E attenzione però che adesso questo termine potrebbe essere negativo se x e y hanno segno di scorde. Però se tu prendi a y più 3x uguale a zero quindi y ed x hanno effettivamente segni di scordi questo termine va via, questo termine è positivo, questo termine è negativo e quindi per quel legame fra x e y f di x y è minore di zero quindi non possiamo assolutamente scegliere b uguale a 6 più y per cui b deve essere uguale a 6 grazie a tutti grazie a tutti